E oggi 13 febbraio è la giornata mondiale della radio, appunto una ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo e noi oggi vogliamo conoscere la radio vaticana, la radio del papa, lo facciamo grazie alla presenza del responsabile della radio vaticana e di vatican news massimiliano menichetti. Buongiorno, buongiorno, benvenuto, grazie. Grazie, grazie, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori e gli ascoltatori. Allora, partiamo proprio da questa data, 12 febbraio del 1931, lo stato della città del Vaticano è pronto a diffondere anche nell'etere le parole del Vangelo e del papa con uno speaker d'eccezione. Allora, ripercorriamo proprio insieme quel giorno. Beh, se torniamo indietro, anche di due anni addirittura, papa più undicesimo chiese a Guglielmo Marconi, al padre della radio, di costruire la radio vaticana. Due anni di lavori, lui ancorò, diciamo, nei pressi delle rive laziali il panfilo Elettra, che era la grande nave che utilizzava per gli esperimenti e quel giorno sul colle Vaticano ci fu questo grande evento, come stavate dicendo voi. Il papa si rese conto, dobbiamo fare una precisazione, che la radio vaticana da sempre è stata all'avanguardia rispetto ai mezzi tecnologici. Quindi il papa si rese conto che era il modo per poter espandere la luce del Vangelo, la buona notizia nel mondo, per portarla a chiunque nel mondo. E quindi chiese a Guglielmo Marconi, peraltro era amico dello scienziato, e sono tante le storie che raccontano della loro amicizia, chiese di costruire e di realizzare la radio vaticana. Quindi alle 16 e 40 circa di 93 anni fa si trovarono sul colle Vaticano per l'inaugurazione della radio. Prima fu Marconi ad annunciare che ci sarebbe stato da lì a poco il radiomessaggio, il primo radiomessaggio della storia di un papa. E poco dopo, più undicesimo, pronunciò il messaggio, il qui arcano dei, dove si rivolgeva a tutte le creature del mondo, portando, iniziando le trasmissioni, portando la speranza del Vangelo in tutto il mondo. Una particolarità, poco dopo questo radiomessaggio, il primo radiomessaggio della storia dei papi, venne diffuso un disco a 78 giri, erano alcuni brani di Beethoven. Questo per dire che anche la musica è importante e costitutiva dell'annuncio del messaggio evangelico, perché lì dove non possono arrivare le parole, perché magari le parole per cultura, per realtà, possono ferire l'animo, la musica invece può elevare la persona e portarla a Dio. E da quel momento è nata questa avventura, proprio ieri abbiamo compiuto i 93 anni. Direttore, 93 anni possono sembrare tanti, ma nell'ambito tecnologico sono state davvero tantissime le innovazioni che il mezzo della radio ha dovuto sopportare, potremmo dire così. Tra l'altro poi la missione della Chiesa, subito dopo il Concilio Vaticano II, ma anche mentre il Concilio Vaticano II era ancora in atto, ricordiamo, intermirifica, il primo grande decreto dedicato proprio alla comunicazione ha posto in maniera importante il tema della comunicazione all'interno della vita della Chiesa. E allora potremmo parlare di uno spirito che resta immutato, come quello di 93 anni fa? Sì, possiamo dire che innanzitutto è Paolo VI, peraltro, che dà l'avvio a quella che è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Lo spirito rimane mutato nel senso che l'aggiornamento tecnologico, come dicevamo prima, è stato sempre all'avanguardia, ma al centro di questo aggiornamento della realtà della radio vaticana, ma possiamo dire un po' di tutti i mezzi cattolici, c'è la persona e quindi l'annuncio del Vangelo. Per cui la radio vaticana chiaramente ha iniziato le sue trasmissioni in onde corte, in onde medie, poi le FM, l'emissione su satellite, l'attività attraverso i social, la radiovisione che ad esempio oggi stesso, oggi proprio come giornata lanciamo un canale su Facebook di radiovisione oltre quello del Vatican News, quindi nel tempo la radio è diventata una radio che si ascolta certamente, ma si può anche leggere e si può anche sfogliare se vogliamo, quindi è una radio che si guarda, si guarda, si ascolta, si legge, ma al centro c'è la persona e oltretutto la costituzione della galassia della radio vaticana, dovete pensare che la radio vaticana tra scritto e parlato, quindi noi ci esprimiamo globalmente in 52 lingue e questo perché? Perché si arriva a tutte, in tutte le parti del mondo, cerchiamo di innervare tutte le parti del mondo ed ogni realtà cattolica di formazione, ogni radio anche parrocchiale è per noi una fonte e siamo ritrasmessi anche da queste realtà nel mondo, ecco è una galassia, è una comunione di fatto di emittenti, non è una federazione, è realmente incarnare il senso della Chiesa, una rete di comunione che è insieme e trasmette ed esiste proprio per non lasciare nessuno da solo e portare la buona notizia del Vangelo e leggere i fatti alla luce della dottrina sociale della Chiesa. La giornata mondiale della radio che appunto celebriamo e festeggiamo oggi ogni anno ha un tema, tema di quest'anno un secolo per informare, intrattenere ed educare. Nonostante la bulimia da social degli ultimi anni e anche la velocità con la quale soffriamo dell'informazione, la radio conserva ancora un ruolo importante in questo settore, quello appunto dell'educazione, dell'intrattenimento e dell'informazione. In che modo direttore? No senza dubbio perché credo sia anche una vostra esperienza, la radio innanzitutto è un luogo privilegiato perché se è vero da una parte che si può anche vedere in video, si può anche sfogliare ormai sui monitor nelle automobili, nei cellulari, mentre si ascolta un programma radiofonico appaiono anche tanti altri messaggi, quindi si può anche sfogliare. Ma la radio è un luogo privilegiato, se vogliamo anche più intimo di ascolto, al di là poi di tutte le derivazioni come i podcast che consentono addirittura di scaricare in un secondo momento dei contenuti e poterli ascoltare, la radio in quanto tale è un luogo privilegiato che dà la possibilità anche per chi è intervistato di mantenere uno spazio di maggiore privacy. La grande diffusione della radio, nel caso della radio vaticana, è anche ancora in onde corte, quindi la radio arriva in luoghi dove nessun'altra tecnologia può arrivare, abbiamo tante storie anche drammatiche che si sono rivolte poi nel bene come emissioni verso il deserto del Sahara dove sono state rapite delle persone e quando sono state liberate ci hanno raccontato, sono venute subito da noi di diversi nazionalità, sono venuti da noi a ringraziarci perché i carcerieri, così padre Maccalli, padre Peter, ci hanno, i carcerieri avevano concesso una piccola radio ad onde corte e potevano ascoltare la realtà in francese o in italiano della radio vaticana e siamo stati per loro una finestra di vita sul mondo, quindi ecco la radio sia in onde corte per questo messaggio se vogliamo trasnazionale ma anche in FM e in qualsiasi tipo di trasmissione è ed è un mezzo molto forte, le statistiche del mondo ci danno un termometro di un mezzo estremamente vivo, certamente in aggiornamento, quindi con tutte le potenzialità che ha e che rappresenta, ma un mezzo vivo e costitutivo proprio per questa dimensione che ha, sia nel trasporto, tanto viene ascoltato con i cellulari, oltre il 70-80% dell'ascolto radiofonico è attraverso cellulari, molto è ascoltato in macchina, nel mondo questo chiaramente cambia, per darvi soltanto un esempio, in Vietnam dove si usano moltissimo le biciclette e viene ascoltata invece a casa la radio intorno ad un tavolo, si mette un social network e si ascoltano però programmi radiofonici. Che meraviglia, allora vogliamo mostrarle uno scatto, una foto con Elettra Marconi, ci racconti questa immagine e in che occasione hai incontrato la figlia del padre, colui quale ha gettato le basi della radio? Come no, qui siamo nel salotto della casa di Guglielmo Marconi, siamo a Roma, nel centro di Roma, siamo a pochi passi da Piazza di Spagna, ci siamo incontrati la scorsa settimana perché in queste ricorrenze, oggi la giornata mondiale della radio, ieri il compleanno della radio Vaticana, ma il 25 aprile prossimo ci sarà una data importante, il compleanno, un compleanno importante perché si celebreranno i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Allora abbiamo chiesto alla principessa Elettra un incontro, ci conosciamo da tempo, lei ha nel cuore la radio Vaticana perché vede nella struttura di fatto una realizzazione di suo padre, dice io amo la radio Vaticana perché l'ha costruita mio papà, io vedo in tutta questa struttura mio padre, anche perché la radio Vaticana in questo momento mi trovo alla fine, diciamo all'inizio di vedere la conciliazione, spalle a San Pietro, l'ultimo edificio sulla sinistra, ma la radio Vaticana costruita da Marconi si trova all'interno del colle Vaticano ed è ancora presente la struttura di Guglielmo Marconi, se gli ascoltatori, i telespettatori, voi stessi vorrete venire facendo un giro nei musei vaticani, c'è un'estensione del biglietto che consente il viaggio dentro i giardini vaticani e si può vedere proprio il laboratorio di Marconi. Lì siamo andati a casa della principessa Elettra per realizzare un piccolo documentario, quindi questa abbiamo realizzato un'intervista con lei e anche con il figlio, che si chiama quindi nipote di Guglielmo Marconi, che si chiama Guglielmo, come da tradizione spesso si porta il nome del nonno, per realizzare un piccolo documentario proprio in vista di questi 150 anni. È stato un incontro molto bello e sarà anche bello poter condividere e vedere ciò che la figlia, che ha nel cuore, in animo, in tutta la sua vita, ha dedicato la vita a raccontare la preziosità e il genio di quest'uomo, di questo scienziato, quindi del padre nel mondo. Allora direttore, noi parleremo di Guglielmo Marconi tra qualche minuto. Io ne voglio approfittare, visto che siamo in chiusura e la pubblicità è imminente, per chiederle qualche notizia riguardo al giubileo, perché il 2025 si avvicina e questo si presume sarà fino ad oggi, fino al 2025 stesso, il giubileo più social e più comunicativo di sempre. Voi come vi state attrezzando per questo anno santo straordinario che sta per arrivare? Ordinario nel senso che ovviamente sono i 25 anni. Certo, ovviamente è un evento estremamente atteso nel mondo e effettivamente saranno tantissimi gli eventi che si susseguiranno, proprio si stanno chiudendo gli ultimi eventi, come avrete anche visto, proprio organizzativi. La radio, la struttura, quindi Radio Vaticana, Vatican News, punta essa stessa verso una multimedialità. Stavamo dicendo prima, condividiamo con i telespettatori un fuorionda e nella regia nella quale mi trovo sarà ad esempio una regia che sarà aggiornata proprio in termini multimediali, quindi inseriremo all'interno di questa struttura, come già abbiamo altre regie così, telecamere, possibilità di realizzare interviste plurilingue perché avremo la possibilità, essendo praticamente a due passi dalla Basilica di San Pietro avremo la possibilità di parlare, dialogare con tantissime persone che verranno da varie parti del mondo. Proprio per poi la caratteristica dell'emittente di essere plurilingue, pluripiattaforma e quindi pluridevice, quello che noi vorremmo fare è avviare ancora di più, come già è nella nostra mission, un dialogo con tutti gli ascoltatori per portare in una dimensione sicuramente social, ma non dimentichiamo le onde e la trasmissione in FM, però per portare il più possibile il messaggio del Vangelo del mondo, ma ricevere anche la ricchezza delle chiese del mondo che verranno proprio qui in via della conciliazione. Qui diciamo un giubileo molto sicuramente guidato come piattaforma dai social, ma molto attento ai contenuti in modo tale che non rimanga soltanto un evento di superficie, ma si entri il più possibile in questo percorso di perdono e di avvicinamento alla fede e di ritorno appunto a questo luogo di origine, se vogliamo, che è la Basilica di San Pietro e quindi l'incontro con il Papa è un percorso di fede che porta di nuovo diciamo a questo cammino verso Cristo. E allora, in attesa di incontrarci a Roma per il giubileo del 2025, direttore, speriamo di incontrarla prima, appunto accogliamo di cuore il suo invito a visitare gli studi della Radio Vaticana, la ringraziamo per averci dedicato il suo tempo e per aver ripercorso insieme questa storia straordinaria della Radio del Papa. Grazie di cuore a Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana e Vadica News per essere stato con noi quest'oggi. Buon lavoro! Grazie a voi e un cordiale saluto a tutti voi, anche a voi. Grazie mille, grazie. Andiamo in pubblicità allora Paola perché come il direttore ha giustamente preannunciato, ci ha dato l'assist, parleremo proprio di Guglielmo Marconi. Restate con noi.